buongiorno a tutti amici cacciatori e pescatori per questa seconda puntata di noli croci caccia e pesca e quest'oggi siamo a capolora per la seconda puntata il posto è già occupato però siamo sicuri che anche questa mattina ci faremo valere insomma siamo arrivati da dieci minuti e di già gli sei dato quarta d'ora croci illuminaci cos'è questo scusa fallo vedere ai nostri amici telespettatori mi fa male però croci faccio un saluto faccio un saluto con quell'altro non ce l'ho oggi un saluto un saluto E' un barbito. Si. Fetta ti vi io e coso? E' un po' di più. 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 Ed eccoci alla seconda predata della giornata. Un barboncino. Un barboncino. Ma che ho femmina? Ancora non ha deciso. Gli guardi sotto per favore. Ancora non ha deciso. Non sapevo cosa era meglio per... E' un po' di più. E' permesso? E' permesso. E' tutto permesso. Questo lo liberiamo subito. Non hai mai visto un barbito? Si. Si. Che te la fa tutta? Perché appai nell'ombrone. Si. Si. Ma tutti. E' a tempi dei tempi. A tempi dei tempi. A tempi dei Moiani? Si. Si.